Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, come intravedete questa è la famiglia dedicata agli Stati Uniti realizzata da Skill Forward, alcune sono state stampate in quanto sono ancora in arrivo dal produttore, per quanto riguarda invece quelle che potete ammirare adesso andiamo ad aprirne un paio. Fantasie ovviamente ce ne sono per tutti i gusti, dalla classica dedicata a New York con i taxi gialli che vedete qui, a quella che ritrae l'America con la bandiera americana come sfondo, l'Union Jack, l'Aquila anche in questo caso classico simbolo degli Stati Uniti, piuttosto che questa dove ovviamente ogni Stato americano ha la propria targa, quella di Las Vegas, quindi sicuramente c'è quella che più si addice ai vostri gusti se siete poi degli sfegatati degli Stati Uniti. Adesso andiamo a vedere per esempio questa, come vedete è rigida, finestratura limitata ai tasti laterali quindi silenzioso e volume, per quanto riguarda invece il resto è ovviamente sotto e sopra, in questo caso è rimasta aperta. Come vedete il montaggio è particolarmente agevole, non bisogna esercitare nessuna forza per far sì che il telefono vada in sede, pertanto la calzabilità è buona, come vedete è anche solida la tenuta della cover stessa, come vedete infatti il telefono non si scosta dalla stessa anche esercitando una discreta forza, cover quindi che sicuramente da questo punto di vista merita un plauso. Finitura gommata, pertanto permette anche una capacità antiscivolo, come vedete il telefono non si schianta direttamente sul tavolo in maniera repentina, bensì comunque permette un attimo di frenare il telefono stesso nel caso per esempio si vada ad appoggiarlo su una superficie non perfettamente piana, pertanto preserva anche la caduta dello stesso. Proviamone un'altra, sempre di questa famiglia americana. in questo caso avete una cover morbida come quelle della famiglia dello zodiaco per intenderci, cover quindi che ha una finitura posteriore piacevole al tatto e i bordi come vedete permettono poi un grip particolarmente saldo anche in condizione per esempio addersa, non so, vi trovate all'esterno e più vigina piuttosto che avete le mani sudate perché state facendo un'attività sportiva, il fatto di avere questa finitura che permetta un buon grip è sicuramente un punto a favore. Cover come vedete come per quanto riguarda la famiglia dello zodiaco a un facile inserimento e la capacità attraverso questo bordo di proteggere l'iPhone stesso quando questo viene appoggiato sotto sopra. In questo modo appoggiandolo su una superficie aggressiva come potrebbe essere per esempio anche un tavolo di legno viene preservato il display anteriore in quanto lo stesso viene separato dalla superficie di appoggio. Anche in questo caso la finitura permette comunque una buona capacità di frenare il telefono in caso di appoggio su piani inclinati, come vedete infatti il telefono non si schianta repentinamente sul tavolo, bensì la sua corsa la esegue comunque con una certa lentezza permettendomi quindi di salvarlo nel caso appunto lo andiate ad appoggiare su una superficie esageratamente inclinata. Ottima quindi questa cover come l'altra che abbiamo mostrato, per quanto riguarda le rimanenti ovviamente deve piacere la fantasia, ce ne sono accarrettate di queste cover sicuramente quelle di Skill Forward sono realizzate in ottimi materiali come avete potuto ammirare sia nelle varianti rigide che nella variante morbide. Con questo la presentazione di questa famiglia di Skill Forward termina qui, mi raccomando iscrivetevi al canale così non perdere le prossime recensioni e prossimi unboxing. A presto, un saluto da Giuseppe Ragozzino.